Musica Alla fine è arrivato il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto che rinvia il pagamento della prima rata della tasia al 16 ottobre nei comuni ritardatari. E a meno di due settimane dalla scadenza per il pagamento dell'acconto sono arrivati gli ultimi chiarimenti del Dipartimento delle Finanze. Se l'inquilino non paga la propria quota di tasi, compresa fra il 10 e il 30% del totale a scelta del Comune, il proprietario non è responsabile del mancato versamento. Le risposte alle domande più frequenti del Ministero, infatti, confermano che ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria. La responsabilità solidale scatta solo tra due comproprietari o tra due inquilini. Nel caso di fabbricati inagibili o di interesse storico-artistico, la riduzione del 50% dell'imposta vale anche per la tasi. Non si tratta, infatti, di un'agevolazione che i comuni singoli possono stabilire a proprio piacimento, ma di una regola per la determinazione della base imponibile. Un altro dato. Le detrazioni per la tasi sull'abitazione principale, che possono essere stabilite dai singoli comuni, devono essere divise in parti uguali tra tutti i comproprietari, anche se questi hanno quote di possesso diverso. Ad esempio, se c'è una detrazione di 100 euro e il marito possiede il 70% della casa e la moglie il 30%, dovranno calcolare l'imposta lorda secondo la percentuale di possesso e poi scontare 50 euro a testa dall'importo. In caso di separazione, il coniuge al quale il giudice ha segnato l'ex casa familiare è tenuto al pagamento della tasi, secondo le regole e con le detrazioni decise dal comune. Se però la famiglia viveva in affitto, si torna alla regola base. La tasi va pagata dal proprietario e dal locatario, per una quota compresa tra il 10% e il 30% a scelta del comune.